Urban Deco Effetto battuto Urban Deco è la nuova collezione di effetti decorativi materici di Sickens che si ispira al cemento e lo propone in diverse lavorazioni e stili. Ricrea un mood industriale che è in grado di conferire all'abitazione eleganza e modernità allo stesso tempo. L'effetto battuto propone uno stile dai sorprendenti risultati scenografici e di grande impatto. Attrezzatura Per ottenere questo effetto è necessario Pennello a setola morbide o rullo a pelo medio Frattazzo dentato d'acciaio Tampone o spazzola battente rettangolare o quadrata provvista di setole Spatola flessibile in plastica Spatola triangolare in metallo Spugna sintetica tipo a mezzaluna Rullo a pelo medio Prodotti Fondo Alfa FX Micro Intermedio Alfa Urban Deco Base Finitura Alfa Urban Deco Top Fase 1 Preparazione del supporto Prima di applicare i prodotti verificare che la superficie sia pulita, asciutta, priva di polvere e crepe e che la tessitura sia regolare Per superfici sfarinanti o rasate con stucchi poveri utilizzare un fondo consolidante assolvente Applicare una mano di fondo Alfa FX Micro nel colore corrispondente alla finitura diluito al 20-30% in volume con acqua Fondo Alfa FX Micro è un fondo uniformante e va diluito al 20% in volume con acqua se applicato a rullo fino al 30% in volume con acqua se applicato a pennello Essicazione 12 ore Fase 2 Applicazione del prodotto intermedio Applicare una rasata uniforme di Alfa Urban Deco Base con frattazzo dentato d'acciaio dentello appuntito di circa 4 mm di profondità A prodotto ancora fresco tamponare tutta la superficie in maniera omogenea con apposito tampone o spazzola battente rettangolare o quadrata provvista di setole operare in modo tale da eliminare la trama creata con la spatola dentata Mentre il rasante è in fase di essicazione lisciare le creste ripassando l'intera superficie con spatola rettangolare flessibile in plastica operando in tutte le direzioni Essicazione 24 ore Dopo aver atteso 24 ore per la completa essicazione eliminare eventuali sbavature o creste eccessive tramite una spatola triangolare in metallo Eventuali sbiancature della superficie verranno mascherate dalla mano successiva Fase 3 Applicazione della finitura Applicare una mano non diluita della finitura Alfa Urban Deco Top con rullo a pelo medio rimuovendo a prodotto ancora fresco l'eccedenza di materiale con una spugna sintetica tipo a mezzaluna per evidenziare la tessitura creata con la mano precedente e ottenere una patinatura superficiale Durante la posa occorre evitare la formazione di giunte lavorando fresco su fresco tra una ripresa e l'altra Focus La regolarità dell'effetto finale ottenuto dipende molto dalla scelta applicativa del decoratore Eventuali irregolarità devono essere considerate come una specificità tipica di questa lavorazione artistica e artigianale Urban Deco è molto versatile e si presta sia a contesti commerciali che residenziali come loft urbani ma anche piccole abitazioni che ricercano dettagli unici per dar vita ad ambienti moderni dalla sofisticata atmosfera metropolitana Per concludere una sintesi delle fasi principali per ottenere questa finitura dalla fase 1 alla fase 3 Attrezzatura Pennello a setole morbide o rullo a pelo medio Rullo a pelo medio Frattazzo dentato d'acciaio Tampone o spazola battente rettangolare o quadrata provvista di setole Spatola flessibile in plastica Spatola triangolare in metallo Spugna sintetica tipo a mezzaluna Prodotti Fondo Alfa FX Micro Intermedio Alfa Urban Deco Base Finitura Alfa Urban Deco Top Ciclo di applicazione Una mano di fondo Alfa FX Micro nel colore corrispondente alla finitura Una mano di Alfa Urban Deco Base Essicazione 24 ore Eliminare eventuali sbavature o creste eccessive Una mano di Alfa Urban Deco Top